Io ho accettato questa sfida parziale perché penso che la RAI possa produrre internamente, cioè la dimostrazione di questa serata è che noi dobbiamo ritrovare l'orgoglio di lavorare per la RAI, lo dico a tutti, il conduttore è il frontman, ma senza i ragazzi e le persone che noi non conosciamo mai, che passano nei titoli di coda, noi non facciamo azienda. Noi ci siamo trovati di fronte a mille difficoltà, sintetizzare 70 anni di storia televisione è una cosa impossibile, però dobbiamo essere contemporanei, per cui ho voluto che tutti i grandi nomi della televisione raccontassero e vivessero delle emozioni e facessero anche parte, non solo nel racconto, anche dinamicamente di qualcosa che succederà. Per esempio, finalmente sappiamo la verità, sapremo la verità sul famoso, perché non c'erano le telecamere, il famoso mancato incontro, cioè quando Pippo Baudo sceglie tutti, ha scelto 100 persone, ha lanciato 200 nomi Baudo, però uno gli è sfuggito ed era Fiorello, solo che non c'erano le telecamere. Allora ho chiesto, chiederemo a Fiorello, ma che diavolo è successo di questa storia, perché non si è mai capito, Baudo dà una versione, lui non si capiva, finalmente sapremo tutto, perché Fiorello racconta tutto esattamente. Ecco, lo spirito è questo, lo spirito è questo e certamente, mi spiace, non siamo riusciti ad avere tutti, però lo spirito, ripeto, è quello di raccontare anche provocatoriamente questa famosa frase di Giacomo Devoto che dice, lo disse 30 anni fa, ovviamente oggi i tempi sono cambiati, l'Italia sarà fatta non dai governi, non dai governanti, ma tra 30 anni vedrete la classe della vita, del popolo, della gente fatta dalla televisione. Forse aveva ragione, ma oggi ci sono i social, quindi quella frase aveva un senso 30 anni di fan, però lo spirito è quello, quanto conta ancora oggi la televisione? Io penso che la TV generalista, io quando sono entrato con Giovanni Minoli, mi ricordo un titolo, la TV generalista è morta, e stiamo parlando del 92, siamo ancora qui, centrali, ecco, forse la RAI dovrebbe avere più coraggio, avere un incrocio tra la dialettica televisione conservativa e quella innovativa, è un rischio difficile da fare, però penso che la nuova dirigenza sa che bisogna investire e tentare, cioè il successo di Amadeus, parliamoci chiaro, è stato in cosa? È stato in quello di portare dentro la realtà, la realtà, noi non possiamo essere avvussi dal tempo contemporaneo, e Sanremo vince in questo modo perché porta la gente che, qualcuno mi ha detto che quando l'ha invitata mi ha detto che se vado a Sanremo mi arrestano, coraggio, però il tempo non si può mettere in uno scaffale, dimenticare, il tempo di oggi dobbiamo viverlo con la TV di oggi, deve raccontare l'oggi, quindi abbiamo buttato l'anima su un'altra scelta, quella di vivere con quelli di oggi la TV.